Si chiude alla presenza degli arbitri internazionali Marco Di Bello e Luca Pairetto la settimana dell'arbitro organizzata a Brindisi dalla sezione territoriale dell'AIA. Una presenza numerosa dei giovani rappresentanti delle società giovanili a fare da cornici all'incontro. Un'occasione di bilancio per il presidente Palmisano dopo un'intensa settimana di incontri all'interno del bastione San Giacomo dove è stata allestita una mostra della storia dell'AIA Brindisina con Di Bello e Pairetto che si sono divertiti a dialogare con i giovani calciatori e a rispondere alle loro domande. Una grande chiusura con l'ospite Luca Pairetto, il mio collega arbitro internazionale presente qui a Brindisi per tutti questi ragazzi che sono venuti a trovarci. Loro sono il futuro e i nostri giovani arbitri, i quattordicenni che si approcciano a questo mondo e si avvicinano alla nostra sezione sono il futuro, quindi sta a loro migliorare ancora ulteriormente questo sport. La base è il motore di tutta la nostra attività calcistica e arbitrale, quindi non ti nascondo che è bello arrivare qua in questa cornice bellissima di questo bastione con questa mostra dove viene fuori tutta la storia arbitrale sia della sezione di Brindisi che la storia arbitrale nella sua purezza. Quindi vedere tanti ragazzi qua è stato subito un impatto emozionante. Rimane sicuramente il fatto di essere tanto fieri di averla organizzata, di essere riusciti a farci conoscere un pochino di più della cittadinanza e non solo. Il nostro obiettivo primario nasciamo non per fare eventi, organizzare eventi. Certo questo ci permette di cercare anche di reclutare nuove eleve tra i ragazzi che sono intervenuti, tra tutti coloro i quali vogliono fare e intraprendere questa, a mio avviso e a nostro avviso, splendida opportunità di fare sport.